Signore e signori, ecco a voi Luke and the heartthrobs! C'è Romina? E lui chi è? Tuo figlio. Perché non me l'hai detto? Non ti sento da un anno. Te ne sei andato così. È mio figlio, dovrei stare con lui. Io non sono stato con mio padre. Guarda il risultato. Come farai a occuparti di noi? Non riesco a pensare a un lavoro diverso da questo. Avresti tante opportunità. Io non capisco proprio perché lo fai. Perché sono un poliziotto. Hai un figlio. Se vuoi mantenerlo, devi farlo usando le tue forze. E le tue, ta-da, capacità. Allora tutti quelli che vogliono vivere mettano le mani in alto! 1-0-5, inseguiamo il sospettato! 1-0-4, ho la moto davanti a me. Degli che è da parte mia che sono comunque suo padre. Posso dargli tante cose. Agente De Luca, dobbiamo perquisire la sua casa. Perché? Cerchiamo il denaro che Luke Glanton potrebbe aver dato a lei. 14 testoni! La parte del leone va al nostro eroe. È un suo problema. È un nostro problema e glielo sto sottoponendo perché è ciò che devo fare. Ne faccio due in un giorno. Tu svegliati! Non ti permetterò di rovinare tutto. C'è una via d'uscita, ma non ti piacerà. Sai una cosa? Se corri come un fulmine, ti schianti come un tuono.